Una copia della piramide alimentare distribuita ad ogni studente e dalla cattedra gli esperti ad illustrarne le caratteristiche ai fini di un regime alimentare corretto ed equilibrato. È stato lo strumento attraverso cui parlare dei benefici dal punto di vista nutrizionale, salutistico e sociale della dieta mediterranea. Il convegno rivolto agli studenti delle classi quinte delle elementari e prime delle medie stamane presso l'istituto comprensivo pilla di Venafro. La scuola di Venafro è molto attenta a questi argomenti e la dieta mediterranea è un argomento importantissimo, tra l'altro fa parte anche del programma di tecnologia e quindi parlare di dieta ai ragazzi, questo momento importante della loro crescita, secondo me è fondamentale. Noi quindi abbiamo cercato di sensibilizzare i ragazzi su questo argomento parlando di dieta mediterranea, questa dieta è importantissima e nell'ambito di questa dieta di parlare anche dell'importanza di questo alimento particolare che è l'olio d'oliva. Tra gli intervenuti il dottor Gianluca Ciammetti, il medico del veneziale di Isernia, ha illustrato ai ragazzi coinvolgendoli nella spiegazione come alla base della piramide ci siano i cibi da consumare quotidianamente più volte al giorno, mentre salendo ai livelli via via più alti la frequenza di consumo diminuisce sempre di più. Non ci sono alimenti esclusi dalla piramide, tutte le categorie sono importanti per apportare i giusti nutrienti, ha rimarcato l'esperto. Essenziale però scegliere solo prodotti alimentari di qualità e di stagione e a proposito dei prodotti di qualità, espressione e anzi identificativi del territorio venafrano, primo fra tutti l'olio d'oliva. A riguardo l'intervento dell'agronomo Ferdinando Alterio. Questo prodotto che otteniamo per spremitura meccanicamente ha delle caratteristiche veramente eccezionali. Possiamo citare il fatto che il bambino dopo che è stato allattato dalla mamma e incomincia lo svezzamento, il primo prodotto che si usa nell'alimentazione di questo bambino è l'olio d'oliva, quindi come se ci fosse una continuazione del latte attraverso l'olio e quindi nella formazione di questo nuovo individuo. Poi noi di Venafro dobbiamo essere particolarmente gradi a questa pianta e a questo prodotto perché forse l'olio e l'olivo, l'olivo dal punto di vista paesaggistico, oggi ne troviamo un giovamento con il riconosciuto parco regionale storico dell'olivo da parte del Ministero, ma soprattutto per l'olio che nel passato insieme con i cereali ha permesso di incrementare notevolmente il reddito delle persone e di costruire questa città stupenda grazie ai prodotti che produceva questa aria dal punto di vista ambientale veramente felice.